no coglione ho vinto eeeh eeeh no, ci togli, ti facciamo un'altra mettilo lì sei eh ma tu non mi vedo io ho le ti e ne eeeh 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 ma che buono sei stai No, 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 io volevo fare ma no, vuole fare buca qua? no no ma ne che immagini faccio invece io vuoi vedere? come ha in buca sulla piatta vale ma andai in buca? Vabbè, però ho mosso un po' Ma non è presa la bianca? Com' no, sì che l'ho presa la bianca Era qui e l'altra Vabbè Vabbè Ecco Brava A cui devo andare? Non ti mancano qui No, devi stare qui No, vai Dai! Ma perché? Si è vero, guardate la battuta Per il fiore Per il fiore Per il fiore Per il fiore Guarda che panino bello che c'ho qua Posso solo fare il canestro Ma porca Non è possibile Non c'è fisica in sto gioco Vabbè Dai, faccio di così Ma guarda la undici Ma non ci riesco Ma come dai? No, non era becco Sveglia Non importa Uuuu Stai giusto che ci riesco, no? Ah, 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 ah Cos'è con 2 a 0? Vabbè Dio santo Così? Uno 2 a 3 a 0 Ehi, io Due live, guarda Troppo difficile Tanto è la prima che conta La seconda non conta più niente No, no, no Non conta il cazzo Eeeh, ho visto su YouTube Eh, no, poi ti cancellano il video e non puoi fare visual I soldi come li prendi? No, no, no Non interessa i soldi Lo faccio per divertimento Io se farei YouTube non farei solo persone No, se vado i soldi No Ah, guarda che È scarso No, no, no Dai Guarda che bella che c'ho la pindi ci dà Guarda che non la fai Che sei scarso Che sei scarso A me però è sfida questa Oh, chi è che non la fa? Chi è che non la fa? È sfida Zitto E' che la verde non va Impara Impara che si gioca a bigliarle Non so neanche io che lo faccio Infatti Io volevo fare così Bella giocata Ma io usi a 11 Sì, sì, a 11 è quella che non è quella 12 Eh, infatti La cosa ho detto io prima a calcio Questa è classe Quale è classe? Ciò Questa è meglio Eh, infatti Quale è punto, no? Prima è meglio Questa Aspetta che provo Tira la nera No, no, è poi così Eh Tira la classe Tira la classe Tornici, dai Vai Che scello Che ricchione Maggio santo Ti faccio cacarsi Papà Che cucchione Che cucchione Che cucchione Vabbè a cagare Ma no, li vanno alcuni salmi Qui? No Suatano e dovete scendere Che stanno andata al barco Luli Vabbè Sì, vai Saluta ad Antonio Se ci sta portando Ah, vabbè Si scasso Merda Ma porto due Ma perché? Si scasso Mi fai disdare Mi fai disdare Mi fai disdare Mi fai disdare Guarda, guarda Madonna Quella Ma cosa sta registrando qua? Ma no Non ha preso niente Ma che fai Ma non l'avevo dicendata Oh mio Dio Guarda qua la 10 Come una bella pizza Non puoi? Che cacchio Vabbè Cosa lo posso dire? In là In là In là In là Non sono mai indietro La pirla Vabbè l'ha presa Eh Dici niente No Guarda dove Tu ce l'hai in terra Giusto? Si C'è questa qua che è bella Eh E qua Anche tu ci vuole Le vuole una quattro Che bella Power Guarda che Mi fai una maglina Attenta Power Attento 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 No, no L'hai mosso Luca Sei scena No, no Non giochi più Giovanino il quattro Tu mi hai detto di giocare a calcio Giovanino il quattro Giovanino il quattro Questa qua è senza Giovanino il quattro Questa qua è senza E se la capisci Vabbè Se la capisci Se la capisci la faccio Eh Vabbè Bello Aiii Come che sto vincendo io? Eh La partita finisce con l'arbitro fisco Eh Mi fai Baccando mezzo è un po' Eh Si è finita questa giocata Duplice in buca Bravo, bravo Quello fa andare davvero Ma tu mi hai detto che sei giocare ma tu fai cagare lì ma eh Si, si Ragazzi ti dico qualcosa Non lo so Eh, non lo so Allora La... La rossa Ma si è finita questa giocata Giovanino il quattro E' stato fatto che ti vengono la giampa Neanche la pianta Neanche la pianta Quando si scarsi Si scarsi Ragazzi Eh Non sei mai tu Noi più di si iscri... Te lì Bella Eh oh Che bella Bella Cosa parli te efe questa professionismo si lei chiamavano il il tavolo adegu la tua il campo Ok, vai. Easy. Easy, Jack. Qua la buca è molto easy. Se ne colpisco la panna, però. Bene. Ma non c'è la buca. Buca. Tu mi te ne hai capito come ho fatto. Ok, vai. Ragazzi, questa è la prima partita. Ma lo fai? Luca, non vale! Guarda qua, va più a 9. Vuole come ancora che c'è qui e non va. I guai, hai visto? Hai visto? Zitto, ho venuto una. Zitto, zitto, sei in vantaggio. Sì, sì, vai. Ma come la faccio passare in mezzo? Guarda che spizzo. Eh, non va, però non se lo vada. Oh! Vabbè, dopo. No, hai tirato? Eh. Non l'ha registrato, ma hai tirato? Sì. No, ha registrato. La nera. Eh, ma come va? Aspetta, facci così, come fai qui? Sì. La nera deve andare dove va l'ultima, eh? Lo so. Al contrario, però. Attento il tavolo. Ma si va a fa' un buco. Hai per raccidi? Io non so giocare. Ma ci devo. Io non so giocare. Eh, no, andate in buco anche la bianca, però. No, 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 no. Sì, andate in buco anche la bianca. No, è andata. No, è andata. Sì, scrivete nei commenti se ne andavo anche in buco la bianca. Tanto ci scriverà nessuno, c'è i 100 iscritti. Guarda, mi volevo facci andare in? Io volevo venire per Fuse Gamer, non per le scalette. Vai. Attento il tavolo. Luca, il tavolo! Eh, non so giocare. Ah, l'ho pagato da un casino, c***o. L'ho pagato da un casino, c***o. Ho pagato da un casino, c***o. Eh, poi non stavo a fare con il giro. Eh, io ho perduto i tuoi soldi da volte. Oh, dai. Pirlo. Sì, pirlo, pirlo, pirlo. Guarda che classico. Il pippone. Vai. Vai, l'ho compito però la palla. Sì. Fermati. Ehi, e ma come faccio? Cioè, non... Non puoi, vedi? Ma no, mi metto qua la palla. Attento, bravo. Che intelligenza, hai visto? Aspetta, e poi mi finirà partito al video. Quando si è promossa l'esame di terza legge, mi riuscirono tante cose. Non puoi. Oh, no! Non ci credo. Dai, ma che fai? Vabbè, ti faccio la... Perché non puoi. E tanti non fai. Io so. Grazie, per la donna. Vabbè. Grazie. Quasi. Ma te l'hai fatto... Aspetta! Devi farla... Devi farla buca qua. Di là devi farla buca. No, no. Di qua. Al contrario, sempre. Oh, no. Si fa sempre al contrario. No! Sì, al contrario. Adesso non lo faccio mai, vai, no. Vai a lungo o devi farla là? No, lì devo farla. Non è vero. Ma no, sei per un giocare. Vai, l'altra mano per te. Vai. Buono. Che gioco su armi. Che gioco su armi. Eh, vabbè. Buono. No! Oh. Cosa ho? Beh, non è difficile. I! Sto la prendendo leggermente. Bravo, bravo. Hai toccato a due. Bravo. Sì, sì. Ragazzi, poi nei commenti scrivete chi è stato il più bravo a giocare questa bella partita. Vabbè, dai. Si sa. Sono pronto, lo so. Ah, peccato. Però la giorni di intenzione c'era. Sì, sì, c'era. Dai, ma che culo. Vai. Oh! E tanto che ti dia che... Non lo farei mai. Sì, sì, c'era. Non lo farei mai. Bravo. Ah, vabbè, non è facile, eh, però, ragazzi. Perché voi... Nella... Dallo schermo è facile parlare. Giocate nella vita reale, su. Sì, sì. Ok, non era lì. Quindi lo vanno a qua. Sì. Non l'ho colpita apposta, perché no, mi sono la mandata di buca. Sì. Fermami. Vai, Luca, fai la buca a me. Oppure... Attento il caldo. Grande. Do l'avvicinata alla grande. Oddio santo. Dai, Luca. È scoraggiato. Non l'avete sentito, è scoraggiato. La puzza di... Dai, vai, ve lo... Oh, te l'ho ammontonata. Che giocatore. Sì, sì, guarda. Oh, attenzione. No, è troppo difficile. Sì, sì. Adesso lo fa. Non c'ho le mani da... Bellissimo. Non c'è l'unico colpita. Tocca la piano. No, così. No, basta scorre il giallo. Aspetta, basta, sto facendo il video. Sono qua. Sì, sono qui sotto. Sono facendo il video, io non l'ho visto. Non c'è l'unico colpita. Oh. Senta, è difficile. Ed the fuck? Perfetto. Buon gusto. Spacca, spacca! No, ma che spargo spacca? Dai, dai, Luca, veloce. È bello. Lo faccio posto perché se no la... Non vado. Ah, che cubo. Dai, dai. No, no. Dai, Luca. No, assolutamente lo devo compierla che non so giocare. No, ci... E mo? No, perché no. E mo che mo so cazzo. E mo, e mo so cazzo. Perché? Posso fare così? Eh. Mi lo tolgo. Ma va, va, va. Scusate. Grazie, grazie. Questo per farvi capire il livello della gente. Non l'hai toccato. Infatti, è quello il mio scopo. Dalissimo. Dalissimo. Oh, mamma mia. Non si scatta tantissimo. Non così, capisci. Non si scatta tantissimo. Ah, no. Oh, eh, si va vincere. Due a zero. Due a zero. Oh, ma ne non ci mi inquadra la braccia. Due a zero. For me. Allora, ragazzi. Lui su Instagram si chiama... Cosa si è a ferro? No. Non lo so. Ah, aspetta. Che non mi ricordo neanche qui. Luca. Trattino basso. Dis. Punto. Cinque. Ok. Iscrivetevi. Ah, ma... Ve lo lascio in descrizione comunque. E... Io vi saluto da Edica Team. Mettete mi piace e commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Due a zero. È scarso. Non è capace. Bella ragazzi. La pippa, bro. Ma vai ca... Grazie a tutti